a giapponese avversario si è preso il giallo ragazzi attenzione a l'arancione il ritorno di mose il viola di matteo era confusione totale e di assaggiare oggi che non carica per quale logica no e quindi è di il signor dr che è molto lento sedia resta più lento questa è un'offesa gratuita se questa era abbastanza gratuita effettivamente ruba la pecora di agato che lascia lì da sola mamma mia questa due pecore due pecore ovvio io sono andato avanti in oltranza a contestare il nemico senza paura te le lascio te le lascio ci mancherebbe ah no no tanto io non ho già 9 ah e va bene non fa niente non fa niente tanto io faccio i cespugli che altro non potrei dare neanche perché quando è così poi scoppia un casino quindi già non inizia a rompere palla il mongolo fa quello fa chi è risultato nel mongolo se fa come ieri fai i bicchieri subito i cavalli facciamo ancora un po di cibo portano un po verso il centro città mio e canne ma te ti staccio qui 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 da me ah cazzo lo ha detto niente ah va bene è andato è andato perfetto infatti fuck il il è anche E' bello. Ha perso il camion? Coglione. Sta avvicinando. arrivano cavalli oggi come cavalli di già non sono pronto no no terrificante terrificante adesso mi ricordo di loro della loro infamia no io ripondo a farsi con c'è una città non me ne spiega niente no i ne fumetti 2 esploratori qui la questione è grave io ho costruito una torretta da una parte e lui è andato dall'altra fortissimo bisogna eliminarci l'oro ok è simpatico è simpatico arriva come un emorroid è uguale oh grande grande veramente bravo non li mica no l'ho fermato i propri una pugnalata una pugna bravi si ha i reni l'hai data bellissima la giapponesina amora è stata solo per soddisfazione non c'era un vero motivo per farlo però ho pagato una schicca l'hai dato assolutamente è stato di pura cattiveria rabbia repressa non c'era ma ci sono sottornati dai con sta pietra adesso il tremino a cazzo di cane ma a cazzo di cane proprio che dio ci aiuti a cazzo di cane 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 quei tre picchieri stanno tenendo botta a tutto il popolo mongolo si si mi hanno salvato la vita considera perché non era finita a cazzo di cane a cazzo di cane a cazzo di cane a cazzo di cane difese se sono i cavalli leggeri posso contrastarli c'è boe ero oro su di ma se vuoi uccidere ci devo lasciarvi ma te ancora un esploratore colateva direzione il maiale oggi se entrambe gli esploratori del peccato ti stava a portare anche l'altro però niente non hai più concorrenza ma te ho ucciso gli esploratori del russo non hai più concorrenza ah fissati oh fissati verdi si si vengono da te ma te no non Inizio questo sta guardando la reliquia ok si contempla lui però d'uccidere malamente ah ma perché c'è a fianco il centro città ok justi qui, e' la momma, d'accordo appara una rocca l'objeto, mi ha chiesto l'anno? in questa rocca se prende l'ass iguali nel corso a mano, e ora sai come un attime la macchina se da me incredibile microfono di oggi come sempre si quando sentite rumori molesti so io ho messo accorto che succede ma non manco io sempre loro sempre ma tanto questi stato si è passata la sua dalle ora ma questo è il vero che ha fatto ti muoio ha dovuto riscontrare a questo acqua mi mando verso i picchiere mi disturbo non funzionato per il momento andando gli altri stanno boom ci vuole una via di mezzo il tacco da me ma allora allora e porco l'azza attaccate perché non vedete mannaggia la puttana che non l'ha sentita messi no no in realtà non ha bestemmiato lo sclero intendevo ma te i miei picchieri che dormono allora non so a questo a un mangano che gli ero piglio trovano di seriude che gli ero piglio si perché non t'hanno visto dai 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 vai ciao per l'azza attaccato l'azza attaccato è un uccolo il l'azza attaccato si 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 per l'azza attaccato si 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 Sì, è vero. Allora vivo Ah io vado sul mercallo, stanno mercanteggiandosi Eh bravo, bravo Ma è il giapponese, cazzo porco, mi sono distratto un secondo Oddio Eh ma te È il giapponese, non me ne so accorto, non ho tritato Ok, ok Eh, vi posso dire che il russo ha quattro reliquie Hmm Non che male Un milionario Oh 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 Shhh Grazie Perché non suona più quando la prende a me, poi a base di Non so perché Shhh Shhh Ma qualcuno ha capito se stanno commerciando o no? Non ho visto Ho andato lì o no? Sembra di no Per lo meno sul mercato questa di qua Dopo Sì sì, stanno commerciando Sì 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 Ma allora Loro stanno tutti in seconda ancora Questo è buono Un po' Sì Un po' Ma Un po' Un po' Un po' Tutti Un po' Un po' Eh Stanno tutti in seconda ma c'hanno un esercito che I giapponesi sono C Hmm Ok è stato in piccola ragazzi se non potete manda qualcosa sì sì troppo arriendo faccio le cose arriva anche un mangano è riuscito a prendergli un mangano un mangano eccolo sì ci provo andai io a 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 dove sta il mio mercato? qua a a a allora a 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 il primo potenziamento ecco tutto lasciamo perdere che non arrivo più se no a 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 mannaggia all'oro mi manca completamente l'oro a 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 intorno al cacacazzo ok allora qua devo fare io adesso c'ho i manga lì dietro bisogna andare dietro le nuove a a a mongolo del cazzo eh sì ma sono un po' in base dal tu hai messo quel muro però quello già è una gran cosa allora sì per fortuna l'ho fatto ha bestemmiato prima del del premio sì 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 certo passerà la parte centrale sia chiaro però eh ma ci sta anche i stelli cazzo questo cazzo si è andato mongolo di merda eccolo eh mi fa il giro sto figlio di puttana vabbè 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 non mi fateci dai coglioni niente andate tornate un po' dietro che era il gruppo lì con le spingarda lì ok Ma col cazzo andate voi Ma che cazzo fate io? Non so se quelli moriranno a fa' loro Però ci devo provare Allora dai 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 veloci Mo vado a romper il cazzo a questo Ecco sto roba degli strelizi però la devono cambiare Perché mi va bene che facciano questo tanto danno Ma che esplodono le armi in sedio Anche no Cioè nel senso Mi abbiamo rispinti No E' che io stai in culo alla madonna Il troppo un po' Non è così I carretti giù stanno a prendere mi sa Ah si Sì qua L'azzurro non fa un cazzo Vabbè che cazzo dio Guardate ragazzi non commerciate piuttosto con questo qui Va bene Non so qua Vado verso il verde Tu hai visto un mongolo? Sì sì Mi piace Ti posso dare una mano con un po' di fischio? Vabbè vabbè Devo andare a romper i coglioni perché mi sto appressato I cavalli di merda Sto cacca cazzo Scusa ma il verde sta in seconda Ma come gioca noi? Il mongolo? Sì Ah ecco perché glieli stavo esplodendo Eh infatti io pure ho fezzato Ma allora se togliamo il rosso abbiamo vinto Eeeh Era per toglierlo qui Attacca una c'entra Attacca una c'entra Ah Brava Ud Ah Bravissimo Ud Molto molto bene Quella mi ammazzo la gente La però vabbè Mi fai un favore Mandi questi 6 fucilieri a fare il loro lavoro Che sono più o meno lì da mezz'ora Dove? Dove? Andali a combattere La madre patria Dove ho perso completamente Io? Arrivano ancora Andate e andate in giro Sì, grande Siamo anche questi Eh, sì Come posso Andare e faccio le mani giù Per quando arrivano là tanti è inutile Uscido Mi sento mochando un po' da me ragazzo Perché qui non so che spingono ora Vedi Quello ancora sta via a cazzo E' alluminante Che madonna Poi holda andiamogli sull'oro qua Sì, sì Sì, sì Mol lascio Sto andando io Sto andando lì Sì, sì Andando Puliamo sto cazzo di mongole Cazzo Ah, ma dopo che sta a fa' qua? Oh, guarda Sta a fa' il muro Che cazzo fa? Ah, bravo Ammazza, ammazza Ah, ma dopo che sta a fa' qui Ah, ma dopo che sta a fare due tre Che cazzo è sto cazzo da ora? Guarda ragazzi, ecco qua Smettete di commerciare con quello so Commerciate con quello in base da me Sì, abbiamo Quelli alcuni ci rimangono per farlo Ma io c'ho dei problemi col garretto Teh, prova a riproparti qua che prova a rispingere Poi no, si finisce il castello Ah, sì Preparati qua che poi prova a rispingere Sì, sì Siamo in giù con il cazzo di castello Bravo Mannaggia, ma ammazza Tutti i cittadini che passavano a piedi Oh, mannaggia la puttana Ah, proprio lì sono andati a passare Quelle Oh, mannaggia la puttana Ah, chepotre Sì, io rispota in casa Raffa Oh, bravo Spiel,ota gainic non 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 vero! Sì Vabbè che tu c'hai i cannoni che stanno andando su Ma l'altro io ho spasciato Eh non ho sentito che hai detto Ma io l'hai spaccato? Ah sì sì Sto andato Ok Allora Facco Dio Facco Dio Giambio no Aaaaa 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 Tutti Mi è spiacciuto però Perché volevo demolirlo Mamma mia Comunque non capisco eh Questi giocherò stranissimo Sì Sì E Fanno Frotte di esercito Non lo so All'inizio in modo da su classarti Cioè Arrivano tardi a fare la quarta età No ma non è quello Cioè C'è proprio qualcosa che non va Perché l'azzurro non è passato mai Cioè Ah Cazzo E E Il verde neanche Cioè Eh il verde punta a fare quel gioco lì fastidioso che mi ha fatto sbroccare Eh sì ma non è possibile che non passino in terza o in seconda o in quarta Cioè Ecco Dopo non riesce a gestire l'economia Punta solo a fare quel lavoro lì Di disturbo Ma sì ma a prescindere è impossibile Nel senso Quanti minuti di game sono questo? Eh ma è molto abbastanza 47 minuti Cioè non è possibile che sta 47 minuti in seconda Cioè se gli avessi distrutto la base ok ma letteralmente il verde non l'abbiamo toccato quindi Eh mo sì Nel senso L'azzurro l'ho toccato io dopo L'azzurro sì tutto è scarso Non so strano Non perplesso Via le kill va Punteccio totale Si impone Si impone Si impone A livello militare il doppio di punteccio su Sull'ottomano Doppio Io dico solo che l'ottomano ha letteralmente ucciso Tutto cioè Penso di avere il numero di più cesioni di tutti gli altri messi insieme Carta Canta 7.260 di militare contro 3.476 Io Dico qualcuno è raccomandato perché ha comprato il TLC Poi Senti Questo è vero Questo è vero Può essere Può essere effettivamente Non fosse che era così già prima Però C'è il verde a livello di tecnologia ha fatto 40 punti Poi 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 Poi